Amici TGM, oggi siamo andati a, diciamo meglio lui, perché io ero in altre faccende affaccendato e ho andato a vedere il giochino delle macchine che si ammazzano Breakfast! Come ti è sembrato? Ma tu già ci hai giocato? No, mai fatti, infatti in realtà il nuovo gioco di Bugbear, quelli insomma di giochi di rally finlandesi molto bravi e non ricordo i loro titoli per quello che, così millanto genericamente, la loro bravura nei giochi di corse Esatto, quanto tempo, no in realtà non mi è sembrata una presentazione per portare qualcosa di nuovo quanto per far conoscere al grande pubblico un titolo che in realtà è in early access su Steam da almeno un paio di anni ci ho giocato diverse volte, è una specie di destruction derby all'ennesima potenza con una carriera, una modalità di gioco molto più strutturata ci sono diverse tipologie di gare con varie regole, c'è un grande comparto multiplayer, supporto ai mod la caratteristica bella di Breakfast è il fatto che i modelli delle automobili hanno la dinamica del corpo scusami, il modello dinamico del corpo, il body dynamic simulation per cui ogni elemento non ci sono i danni precalcolati o i pezzi che si spaccano sempre quelli ma i danni vengono calcolati dinamicamente in base all'impatto, alla fisica del momento insomma calcolando appunto la simulazione nel suo complesso quindi da vedere è estremamente divertente perché le macchine si accartocciano, si distruggono da giocare pure perché è simulativo, non è, cioè simulativo scusami è abbastanza arcade con quel tocco simulativo dovuto proprio alla gestione della fisica delle macchine che però lo rende comunque approcciabile da parte di tutti il dev a un certo punto ha detto no perché i simulatori in realtà la gente non è capace di giocarli e quindi facciamo gli arcade e quindi potremmo riassumere con i simulatori in realtà